Il campionato spagnolo è pronto a sbarcare negli Stati Uniti, ufficializzato infatti l'accordo di 15 anni tra la Liga e la multinazionale Relevant, permettendo così lo sbarco di Barcellona, Real Madrid e probabilmente anche di tutte le altre squadre. Almeno una partita all'anno del campionato verrà dunque giocata in suolo americano, facendo della Liga il primo grande torneo calcistico europeo a tentare l'avventura all'estero. Sono tante le novità per il calcio spagnolo ma anche gli accordi, ultimo quello con Facebook. Solo alcuni giorni fa è stato annunciato che gli iscritti alla piattaforma di Zuckerberg di India, Pakistan e di altri sette paesi potranno godersi i 380 incontri della Liga senza pagare un centesimo.